Stavo dicendo perchè c'è un sacco di nemici, ci sono un sacco di nemici più forti di noi in questa zona Quindi a questo punto sapete che c'è tanto qua, ci potremo tornare Io attiverei la missione principale, eccolo qua, livello 6, bene E la raggiungerei Ok, la mia barca però non c'è più, che bello E quindi Cazzo Non c'è roba qua E quindi che si fa? Penso che dovremmo andare qua, andare dritti e poi fare Aspetta però Intanto andiamo qua e ci chiamiamo il cammello Da quando gli popotami sono così aggressivi comunque Andiamo C'è qualcosa qua? No Puoi trovare la strada giusta però Ce l'ho chiesto Ce l'ho chiesto Quale sarebbe, scusa? Eh Segna un ponte qua ma non c'è nessun ponte Aspetta forse lo lasciamo guadarlo Uh sì, perfetto Buono, ho fatto apposta Salve Qua Evitiamo Ok, avete visto anche come cambia molto velocemente E diciamo naturalmente il bioma Da una zona coltivata grazie al fiume e tutto E poi è stata una zona desertica E penso l'ambiente è proprio prevalente in In Africa Nelle zone d'Egitto Quelle là Aspetta però Qua c'è Un accampamento di temici troppo alti Di livello 15 ne andiamo Eh Tutte le zone che stanno qua Penso che siano Tutte così Lago mareotide Questo penso che sia un sentiero Una specie Mi sembra solo che ci siano Un zone coltivate A campamenti militari Comunque qua Nuovo luogo scoperto Tempio di Sekme Tagliamo Noone can help me Noone has seen my book Ok mi sa che dobbiamo scendere qua Ecco il tizio Aspetta e qua c'è anche un'altra missione Qua dentro Andiamo di salire da qua Vediamo di marcarlo Ok buttiamoci Uh Grande Scendi però Qua c'è Una lettera Qualche centinaio di poste A nord ovest del tempio di Sekme Tagliamo Vicino al lago mareotide C'è un posto perfetto Per un appuntamento romantico Pieno di fame E circondato nel deserto Qualcuno costituisce un recinto di pietra Senza uscita Mi troverai lì? Ah ok Questo era il papiere Fatti lo so Bene Torniamo indietro Allora Ah è qua È passato attraverso Parliamo con questo Baiak Baiak What good fortune I thought it would be years before we saw you again Hail in peace Mannahed How is your family? The children seem to grow larger by the minute My wife and I have our hands full And you? Is there any news of None I forget myself There are so many things in your life best not spoken of Forgive me I see by your garb that you have been promoted Ah yes The high priest in his grace made me his second And my rank is not the only thing he has changed You must see the temple You will give me a tour Of course of course At the moment of your pleasure Anche adesso Ready to see our beautiful temple After you Mannahed Or is it Servant of the goddess Mannahed will do For one as good as family This is far from the sorry ruin of my last visit Yamuna plays constant host to ceremonies And he is showing our rustic way of life Which attract many visitors with more gold than cents Ah, a description well suited to Alexandrians How does this sit with your faith? I confess that my thoughts are sometimes uneasy Uh, that's not... 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 Voi? 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 Oh! Voi? 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 Si, non c'è bisogno di attacare un uomo da parte a parte con il suo conoscano, quando mi riconosco di 4-1? Oh? Voi? Voi? Oh, seriamente dobbiamo giocare al nascondino adesso e sono tutti qua dentro però come dovremmo essere capaci di eh, non posso usare sede oh, seriamente c'è l'ho, non può usare non ci sono come dovrei trovarli però con sono andati fuori ok aspetta facciamo così e così cosa è fatta male e come dovremmo come dovrei oh micio ciao quassù come diavolo faccia farlo uscire questo adesso non ci sono a pezzi aspetta torno dopo troviamo gli altri a pezzi aspetta a a a a a non è facile trovarli dove io lo stanno non è facile trovarli o eccolo asina, dovresti venire da qui questo sarebbe un buon posto per guardare le stagioni solo i priesti sono permittati qui, lo sai? sì, ma io voglio vedere... asina, venire da qui, possiamo guardare le stagioni dalla banca ok questa l'abbiamo riportata giù poi è un buon posto per guardare le stagioni